L'incredi palla, perchè un nome migliore non lo trovavamo Oh no, siamo una palla di energia Posso saltare? Ok, non posso dashare Non so cosa devo fare Non posso neanche muovere la telecamera Ok, ora posso Ok, perfetto, quindi devo distruggere tutti i cosi elettrici che troviamo Qua è chiusa Aspetta, ok, lì ci sono delle cure Oh, lì ce n'è uno Ok, sì, ma devi prendere una rincorsa un po' più ampia Intanto iniziamo a prendere questo Non ci arriviamo, ok Va bene, allora proseguiamo dall'unica via che abbiamo aperto, che è questa qua Ehi, calmi Via tutti Oh, calmo Campo di combattimento Ecco fatto, distrutto uno Lì ce n'è un altro Ah Eh, ma va? Chi l'avrebbe detto che ci vedono No, mancato Allora, aspetta Distruggiamo anche questo Ecco fatto Fermo Fermo Devo prendere la rincorsa Devo prendere la rincorsa Allora, devo capire qual è l'angolazione giusta Da Allora, ho capito Allora, ho capito più o meno come si fa a salire sopra Devi prendere giusto la rincorsa E iniziare già a muoverti verso destra o sinistra Quando sei già in alto Preso Ok Ok E una luce è andata Perfetto Qui che cosa abbiamo? Niente E allora Via Di qua probabilmente Dovremmo anche ritornarci poi Via Devo andarmi a prendere una Uh Allora, calmo, calmo Sono incastrato Qua moriamo Allora Mi ha incastrato nell'elettricità Però Aspettiamo Via, passa Ah Dio mio Che tempismi ci hanno Aspettiamo che questo scompaia Di nuovo Aspetta, aspetta Vai Ok Ok Ce l'abbiamo fatta passare Qui è chiuso Perfetto Ecco fatto Prosegui, prosegui Io tanto non so neanche dove sto andando In tutto ciò Ahia Che male Allora Siamo Allora Siamo tornati nella zona iniziale Questo vuol dire Questo vuol dire che io Dove cacchio devo andare Aspetta, 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 aspetta Preso Distrutto Yes Ha distrutto il coso Possiamo passare Adesso vedi che il livello è finito No, aspetta Due punti su quattro Questo vuol dire che Non manca tantissimo Ok Dobbiamo distruggere il campo di forza Ok Qua ci sono un po' di zone dove dobbiamo Prendere in corse Tipo uno Ulla Il raggio della morte mortale lì Calmi con ste pistole voi Uh, calmo Allora Credo di aver capito Perché prima il raggio mi ha sparato Preso Dobbiamo stare lontani dalla luce Eh, ma va Dovrebbe funzionare Prendilo Come faccio a saltare qua sopra? Non lo so Dove sono finito e come ci sono arrivato? Ecco fatto Secondo livello Ne manca solo uno Manca solo questo Dai, per cacchio Forse dovresti starti zitta E farmi guidare Prendilo Ecco fatto Yes Ora Dobbiamo prendere Quelli là sopra Sì, sì, sì Dai, muoviti Aiuto Ok, una cura Allora, se solo fosse facile muoversi Preso Ok Calmo Ok Allora Allora Non è facile Andare Dritto Ma ce la possiamo fare Ma ce la possiamo fare piano piano Chi l'avrebbe mai detto Preso Preso anche quest'angolo Ne manca solo uno Che è Questo qua Eh, oh Calmo Dio mio, è inguidabile Sta palla Perché la telecamera Fa così Schifo Preso Eh, la madonna Allora Uccidi Prendi Prendi la cura Prendi la cura Prendi la cura Per favore Bravissimi Proseguiamo Ora Ehi Ecco fatto Adesso finiamo contro Dove Ah, devo proseguire Allora Allora Calmi tutti Dove devo andare Devo proseguire Non devo proseguire Di qui No Ok Per fortuna Non devo rifarmelo tutto Allora Calmi un attimo Perché Calmi tutti un attimo Perché lì sopra Non riesco a muovermi Fa niente Senti si è incastrata Allora Volevo dire Calmati un secondo Allora Di qua C'è uno di questi Distruggiamolo Ok Mi hai aperto Questa porta Questo vuol dire Che secondo me Quella all'inizio Ancora la dobbiamo Aprire Quella lì che non riuscivo A raggiungere Se si può passare Però Fatto Allora Io aspetterei Che passa il treno A questo punto Aspetterei Che passa Tac Aspettiamo Che parta Addirittura E poi Lo seguiamo Non credo Sia la parte giusta Vabbè Abbiamo sbloccato Un bonus Almeno Meglio di nulla Ok Quindi la parte giusta È proprio Quella In cui Arriva Calmo Quella in cui Arriva Il treno Ecco fatto Tutti morti Allora Aspettiamo Che se ne vada Ah no Beh posso Già passare Perfetto Oh Calmo Dio mio Ok Yes Allora Questo Era probabilmente L'uscita A noi ci manca Ancora di Distruggere Questo qua Come ci arrivo Io là sopra Bella domanda Se lo stanno Chiedendo tutti A casa Forse però Aspetta No non era Questo O si Vabbè Io passo Sti cacchi Ecco fatto Spero sia finito Il livello A questo punto E basta un po' Oh no Di nuovo Il treno Allora Da dove arrivi Uh No Non era Si era quello Aspetta che passo Dovrebbe funzionare Ok ci siamo Perfetto Oh la madonna Quanta gente Ma non finiscono mai Ste persone Io penso che Devo distruggere Quello E come faccio A distruggerlo Ok Se questi Non finiscono Vuol dire Solo una cosa Devo usarli Come birilli Devo usarli Come birilli Per distruggere L'oggetto Vedi che è già Distrutto Quindi vuol dire Che l'ho già colpito Su che È un Pelo complessa La cosa Ok Colpito Distrutto Anche E allora Andiamocene via Immagino Perfetto Ora è tutto Aperto Dove dobbiamo andare Ora Ui calmo Allora Non ne ho idea Non ho idea Di dove Deba proseguire Si parte Ah guarda Ecco fatto Yes Abbiamo abbassato La barriera Barriera Che era Da questa parte Che non penso Comunque sia L'uscita Ma penso sia Solo un segreto Come tanti altri Esatto Però almeno L'abbiamo presi Tutti Quindi sono contento Con me stesso Dovevo ritornare In questa zona E Uscire di qua Perfetto Dove sono Fini Ah Guarda La miglior Miniatura Che poteva Uscire L'incredipalla La miglior Che poteva Mi L'incredipalla Me Di La miglior Grazie a tutti.